aumenta il tasso di disoccupazione scoprono perché non ci hanno voglia di lavorare se uno si mette il lavoro lo trova no massa di sfaticati l'università la didattica la pagano gli studenti e cazzo avete voluto i baroni voi li tenete e li difendete invece di studiare state là ma ancora non gli danno fuoco ma quando li cacciano quanti uomini ci stanno in italia un milione due milioni ancora questo buonismo il senso di marchione è il soccorso sindacato ma vai in cina a fare il sindacato fammi vedere in cina come fai sto cazzo di sindacato dieci giorni solo santo massima che cazzo ti hanno messo a fare la coi soldi nostri poi coi soldi dei contribuenti ancora non l'hanno cacciato in culo ma sei la della mia azienda vedi come lo facevo di anni ah negro comunista grosso di nella azienda ah